Ben ritrovati, ben ritrovati, iscrivetevi al canale, attivate la campanella delle notifiche e lasciate un bel like al termine di questo contenuto, a maggior ragione dopo i blitz in quel di Firenze. Allora, in tanti mi avete mandato foto sui social di persone inqualificabili che inneggiano alle Isele e quant'altro io onestamente non voglio nemmeno soffermarmi su questa gentaglia, si qualifica da sola. Allora, come dicevo qualche giorno fa però, si chiede rispetto ma senza dare rispetto tendenzialmente e questo non va bene, soprattutto in determinati stadi che abbiamo imparato a conoscere a memoria, perché il fatto che ci siano sui telefonini le foto del Liverpool, lo sciarpe dedicate, cioè solamente immaginare di poter godere per una tragedia è proprio il sinonimo di una pochezza umana incredibile. Io queste persone le qualifico come delle bestie, perché non ci sono altri modi, credo onestamente, per definirle, ma ho fatto questo doverosissimo inciso per sottolineare ancora una volta quanti imbecilli esistono nel mondo. Parliamo di calcio, parliamo di quanto ho visto ieri, ho anche fatto un post su Facebook, ho letto tantissimi commenti. Attenzione, poi non si deve missificare la realtà, cioè bisogna essere contenti per il fatto che la Juventus in 11 partite abbia maturato 26 punti, che si ha due lunghezze dall'Inter, che abbia sfruttato in questo turno i passi falsi di Milan, Atalanta e Lazio, però poi c'è tantissimo da migliorare. Quando io continuo a ripetere, quasi se fossi un allenatore, che bisogna mantenere i piedi ben piantati al suolo, non lo faccio per maniavantismo e non lo sto facendo dalla giornata numero uno di questo campionato. Semplicemente perché, come tutti voi, guardo le partite, conosco i limiti di questa squadra, quando le cose vanno bene, tendenzialmente vanno così perché la Juve riesce a mantenere inviolata la sua porta, basti vedere i numeri che, d'altra parte, certificano tutto il percorso finora in questo campionato 2023-2024. Se hai clean sheet di fila, quattro successi di fila, significa che la Juventus quando non prende gol la porta a casa. Se invece va sotto, deve comunque recuperare, ribaltare, anche per caratteristiche, fa fatica. Io vedo delle analogie, sì, a livello di percorso, con poi il filotto della passata stagione, quando a un certo punto la Juventus ha chiuso la porta e si è rilanciata dopo un avvio horror. In generale, non solo in campionato, con una Champions pessima, disastrosa, la peggiore della storia juventina. Però c'è tutt'altro clima. Questo è un gruppo unito. Nella passata stagione molte volte ho avuto la sensazione che i calciatori scendessero in campo perché obbligati a farlo, ma senza quella volontà di fare uno scattino in più per il proprio compagno. Io invece con tutti i limiti, che sono tanti, strutturali, alle volte anche tecnici, in termini di produzione offensiva e quant'altro. Io però vedo un gruppo, vedo un gruppo che ragiona in base al noi, non all'io, che mette poi la coralità davanti tutto e tutti. E non è un caso che, infatti, al momento, comunque, a livello di classifica, la squadra sia decisamente sul pezzo. Sono molto preoccupato per la sfida di sabato con i Cagliari. Ho grande rispetto per gli isolani, che hanno fatto tre vittori di fila, si stanno rilanciando e la Juve arriva davvero a pezzi. Basti pensare che a centrocampo non ci sarà rabbia che dovrà scontare un turno di squalifica. E quindi vedremo cosa si inventerà Allegri. Se insistere, come ha fatto ieri, con Cambiaso in qualità di mezzala, mi sembra che l'abbia fatto anche bene questo ruolo Andrea. Se invece, magari, mettere Meccani mezzala destra e Miretti mezzala sinistra con Cambiaso sulla fascia destra, però la coperta è cortissima, la coperta è cortissima. Se ho fatto bene i calcoli, a livello di campionato, prima che aprirà il mercato, la Juventus con questa rosa dovrà fare sette partite. E sono tante. Bisogna davvero stringere i denti, cercare di fare più punti possibili per rimanere in scia all'Inter, poi che nei razzurri abbiano il miglior organico della Serie A e segreto di Pulcinella. E io continuo a sostenere che Inter, Milano e Napoli, a livello di roster di rosa, e siano davanti alla Juve. Poi lo devi dimostrare sul campo. In questo momento, per esempio, in Milan, nelle ultime tre, ha fatto un punto, quindi significa che i suoi problemi. Il Napoli alterna up and down l'Inter, quella più continua, perché nelle ultime cinque, proprio come la Juventus, quattro le ha vinte e una l'ha pareggiata. Mi riferisco sempre al campionato. Quindi, di ieri cosa salviamo? I tre punti è il fatto che la squadra abbia lottato. Bella Unita, una squadra che a un certo punto è stata presa d'assalto, da tutto. Il blocco viola, con cross da qua e là, però la difesa è stata decisamente sul pezzo. Grande prestazione di Bremen, ma anche di Rugani. Oggi ho rivisto questo avvantaggio di testa in quello che sarebbe potuto essere poi il gol dell'1-1 della Fiorentina. E Rugani, difensivamente, fa qualcosa di sontuoso, perché capisce dove va la palla, capisce come mettersi con il corpo ed effettua il gesto tecnico giusto poi per disinnescare un pericolo enorme. Bisogna anche soffermarsi poi sulla crescita di determinate individualità. Daniele sta facendo un'ottima stagione, ma già nella passata, come avevo ripetuto mille volte, aveva fatto ampiamente il suo, annullando Zappata con l'Atalanta, annullando Zimane con il Napoli. Questo è un ragazzo serio. È un ragazzo che, se gioca o non gioca, è la stessa cosa a livello di professionalità, e che se ti fa una partita ogni sete te la fa bene. Poi, chiaro, lo abbiamo già detto fino allo sfinimento, un discorso è avere Rugani come quarto, quinto, centrale a determinati soldi, un altro è se poi come quarto, quinto, va a prendere i 3 milioni netti, ma questo è un problema di montengaggi che ha portato la Juventus a uscire dai binari, alzando affin troppo la siccella. Però, parlando di campo, Rugani, in questa sezione, quando è stato chiamato in causa, è sempre stato diligente. Attento, uno dei migliori. Quando ha giocato ha sempre fatto molto bene, quindi sono contento che anche a Firenze abbia aumentato la sua fiducia. Ma in generale, poi, chiaro che magari domani facciamo un approfondimento su Dujan Blau, c'è Federico Chiesa, ieri gli attaccanti, ragazzi, non li voglio giudicare negativamente, quanti palloni giocabili sono arrivati a questi ragazzi, hanno corso tanto, Chiesa soprattutto a vuoto, Ken leggermente meglio, ma si è sacrificato tanto in funzione della coralità. Devo dire che ieri, tra gli attaccanti, quello che più mi ha convinto è stato Milik, che il suo ingresso è stato fondamentale affinché la Juventus potesse avere qualche riferimento offensivo nel gioco aereo, e poi l'ex attaccante dell'OM è stato bravo a prendersi un paio di falli determinanti per far rifiatare la squadra e alzare un pochettino il baricentro. Però la produzione offensiva ieri è stata pressoché inesistente, forse anche senza pressoché un'occasione. Al decimo, ben orchestrata, Rabiot, Kostic, Miretti, primo gol in Serie A per Fabio, e sono molto contento. E poi l'altra occasione che mi ricordo è quella della ripresa, con un bello scatto nel finale che dimostra come stia crescendo fisicamente McKennie, con quella palla in mezzo, poco altro. Il resto è stata una Fiorentina che ha fatto tantissimi cross, tutti respinti da Bremen, Rugani, Gatti, che è stato il meno pimpante dei tre, ma porta a casa la sufficienza, Locatelli, che a livello difensivo ha fatto una prova mostruosa, anche Rabiot, impreciso nel primo tempo, ma poi è cresciuto nella ripresa, anche lui, in tono difensivo. Quindi di questo Fiorentina-Juve si salvano i tre punti, lo spirito e la voglia di questa squadra di rimanere unita anche nelle difficoltà, ma c'è tantissimo da lavorare. C'è tantissimo da lavorare perché anche ieri, secondo me, con un pizzico di coraggio in più e soprattutto di precisione, due o tre palle sarebbero potute finire tranquillamente. Nella metà campo avversaria, a campo aperto, sfruttando le caratteristiche dei velocissimi come McKenn, Chiesa. Nella ripresa, un po' più complicato perché la squadra era molto stanca, però, specialmente nel primo tempo, secondo me la Juventus avrebbe potuto intimorire ulteriormente la retroguardia viola. Bisogna migliorare, bisogna migliorare tantissimo su questo aspetto, perché ci sta che per caratteristiche la Juventus, soprattutto con le vicissitudini che ha avuto a centrocampo, non sia in grado di creare in maniera frequente un palleggio aulico che consente attraverso la manovra di scardinare, anche circunnavigare i blocchi avversari, però se decidi di giocare difesa posizionale e ripartenze, non deve essere una ripartenza, deve essere più ripartenze, a maggior ragione se affronti avversari che ti concedono, perché la Fiorentina dietro non è un blocco granitico. L'Atalanta, se noi ripensiamo alla partita di Bergamo, che è stata sulla stessa falsa riga, quella di Firenze, anche a Bergamo la Juventus avrebbe potuto, secondo me, creare qualcosina in più. E là bisogna migliorare, bisogna migliorare in maniera più assoluta, perché nei limiti di questa squadra l'evoluzione è questa, in questa stagione, cioè provare a fare qualche contropiede più orchestrato, più cinico, più spietato, più veloce. Insomma, bene i tre punti, ma attenzione che se la Juventus poi dovesse iniziarsi a specchiare diventerebbe probabilmente la più vulnerabile tra le grandi di questo campionato.